Come Comune di Fanno abbiamo istituito un servizio che è un numero del quale tutte le persone che si trovano in difficoltà per fare la spesa, per comprare i farmaci oppure che hanno necessità impellenti e non riescono attraverso una rete amicale di parentela a sopperire queste esigenze invitiamo a telefonarli al numero che abbiamo istituito in Comune che è lo 0721-887-483 oppure 887-485 sono dei numeri al quale rispondono i nostri operatori, quelli dei servizi sociali oppure i vigili urbani e le persone evidenziano il problema e attraverso il volontariato di protezione civile riusciamo a dare una risposta tempestiva a tutti è un servizio che non costa nulla se non le spese vive che si devono affrontare nell'acquisto dei farmaci e della spesa è un servizio che come Comune facciamo per assistere la popolazione che oggi e in un futuro potrebbe averne bisogno è un servizio completamente gratuito gestito da persone in divisa, dalla protezione civile che vanno presso casa della persona che ha esigenza, chiedono i soldi che servono per fare la spesa e riportano il resto è un servizio che facciamo e è molto importante per cui tutte le persone che hanno bisogno chiamino questo numero di telefono quelli invece che si vogliono mettere a disposizione per dare una mano a questa comunità che ha tanto bisogno in questo momento anche di solidarietà, di vicinanza eccetera possono farlo anche attraverso un corso di formazione per cui invitiamo le persone che vogliono dare una mano a questo sistema a presentarsi sabato mattina presso la sede del Cibiclub Mattei di Fano che si trova in zona Codma, dentro Codma anzi a presentarsi sabato mattina tutto il giorno saranno lì volontari perché intanto inizino a prendere, avranno dell'informazione rispetto al funzionamento del sistema di protezione civile vi invitiamo a farlo e vi invitiamo chi ha veramente bisogno ad utilizzare i numeri di telefono del Comune di Fano che ha messo a disposizione già da tempo Grazie a tutti